eccoci qui ragazzi ben ritrovati buon pomeriggio buona domenica oggi domenica 2 luglio e vi do qualche aggiornamento di mercato così tanto per farvi rimanere informati su movimenti di mercato della roma e allora allora nei giorni scorsi avevamo detto che la roma doveva chiudere al 30 giugno la prima fase del mercato perché doveva trovare queste plus valenze da fare per rientrare nel fair play finanziario della web la roma c'è andata vicino però non non ha raggiunto la cifra che la uefa pretendeva per per questo fair play finanziario e chiaramente tutte le cessioni che abbiamo fatto in questo mese di giugno tajirovic volpato missori clivert e carles perez vanno interpretate anche come plus valenza effettiva cioè il costo dato dal quando l'hai comprato l'ammortamento negli anni è quello che ci hai fatto in questa sessione di mercato per cui a parte volpato da irovic e missori che sono giocatori facendo parte del 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 vivaglio giallorosso e che quindi tu hai fatto una plus valenza netta e completa quindi 8 e mezzo e 9 e mezzo fanno 18 milioni di euro carles perez invece clivert li devi ammortizzare e quindi da 11 milioni diventano 7 per clivert arriviamo a 25 carles perez siamo su insomma su un paio 2 3 milioni quindi comunque vada comunque vada la roma 26 27 milioni di euro li ha raggruppati come plus valenza netta è chiaro che noi non sappiamo neanche quale sia la somma precisa che la roma avrebbe dovuto fare perché noi si parla di 30 milioni ma la roma non ha mai dichiarato che deve fare 30 milioni di plus valenza non possiamo noi sapere quanto precisamente doveva fare di plus valenza perché quello è in base alla chiusura del bilancio del 30 giugno che ancora non è stato dichiarato dalla roma per cui essendo non essendo più quadata in borsa non lo possiamo sapere quindi evidentemente forse era qualcosa in più forse abbiamo fatto qualcosa di plus valenza in meno comunque fatto sta che la uefa ha moltato la roma di 5 milioni di euro perché non si è raggiunto questo obiettivo poteva andare sicuramente peggio chiaramente su pinto io in questo momento l'abbiamo criticato per gli acquisti su più che altro nei mesi scorsi però per adesso chiaramente io non mi sento di criticarlo perché secondo me in un mese ha fatto il massimo riuscendo a piazzare cinque giocatori non è anche troppo semplici da piazzare poi alla fine è chiaro che ha anche preso due giocatori a zero come indica e a war per cui diciamo che in questo momento la roma ha fatto il massimo il massimo pagherà questa multa rientrerà nei paletti del fair play e si guarda avanti da domani per il mercato in entrata e comunque siamo sempre concentrati anche su quello in uscita che tiene banco comunque perché ripeto ormai sono ai dettagli anche le cessioni di darbo e all'ec e di reynolds al waterloo dopo ha giocato anche l'anno scorso le cifre non sono state rese note comunque inizio la prossima settimana dovrebbero chiudersi anche queste due trattative e questi due giocatori andranno via detto che bianda e cioric hanno scaduto hanno avuto scaduto il loro contratto con roma al 30 giugno finalmente ci siamo tolti dalle scatole anche loro due rimangono sul gruppone come esuberi che non rientrano più nel progetto roma vigna shomurdov e villar shomurdov ultimamente in queste ultime ore c'è stato un sondaggio del galatasarai che lo vorrebbe prendere in prestito con diritto di riscatto la roma chiaramente vorrebbe l'obbligo o comunque un obbligo una vendita diretta vediamo se nei prossimi giorni si potrà insomma sviluppare questa trattativa villare c'era il pauco su di lui che però lo vuole prendere solo in prestito della roma non ne vuole sapere assolutamente sino in italia c'è un interessamento sia del cagliari che del genova ne ho promosse costo però di 4 milioni minimo della roma vediamo cosa potrà succedere nei giorni prossimi mentre per vigna non ci sono novità e forse l'unico giocatore che in questo momento non ha trattative concrete anche se lui piace in inghilterra dove ha giocato del bormut l'ultimo anno magari il bormut potrà riprenderlo in prestito magari acquistato a titolo definitivo non lo so è una trattativa che comunque ancora non ci sono per quanto riguarda invece i titolari ragazzi c'è sempre gas drop in uscita visto che la roma sta anche trattando christensen del lecce per sostituirlo sulla fascia destra non ci sono concrete trattative anche se la settimana scosta si era parlato di interessamento del newcastle sull'altra fascia spinazzola non ha ricevuto offerte ma il procuratore ha detto che se ce ne saranno specialmente dalla rabbia salita verranno valutate vedremo se si potrà insomma ampliare anche discorso spinazzola ripeto spinazzola ragazzi purtroppo è un giocatore che la roma deve vendere subito perché comunque in scadenza di contratto l'anno prossimo è un giocatore che va per i 30 anni è un giocatore che purtroppo ha tanti problemi fisici e che quindi rinnovare il contratto un giocatore del genere dopo i 30 anni a me non mi sembra una cosa intelligente per cui sicuramente verrà venduto spinazzola io ho questa sensazione mentre per i banes ragazzi c'è stato un sondaggio sia del fulham che lo ritiene una pedina fondamentale per l'anno prossimo che è tornato in premier league ma anche un interessamento dell'Aston Villa e la roma lo vuole da 25 30 milioni di euro vedremo se anche questa trattativa potrà entrare nel vivo la settimana prossima per quanto riguarda invece il mercato in entrata ragazzi il discorso principale è sempre quello dell'attaccante che è una cosa fondamentale per la roma ci sarà un nuovo incontro pescamacca la prossima settimana con il westm vediamo se il club inglese aprirà un prestito c'è l'interessamento delle ultime ore il sun ha scritto che murigno è interessato a greenwood giovanissimo attaccante del united che non trova tanto spazio però mi sembra un po troppo acerbo e c'è questo interessamento qui altrimenti altri giocatori sono sempre gli stessi ragazzi nomi che non entusiasmano per niente perché insolata e lo spezia daga ineacio dell'aister retrocesso e è tornato di moda anche dia della serenitana che comunque a me non è che dispiaccia poi tanto l'ha riscattato in la serenitana per 15 milioni e quindi adesso il mio referente se lo prenderà non lo so quanto verrà valutato secondo me non cifre basse vedremo sopra quello che succederà c'è sempre morata sullo sfondo che è una situazione complicata e questi gli attaccanti insomma che in questo momento sono in orbita roma per il centrocampo si fa sempre più insistente il nome di renato sanchez dal paris saint germain frattesi ormai sembra promesso sposo all'inter dopo che la stessa squadra nera azzurra venduto a brozzo vicina arabia saudita io ragazzi sono d'accordo con la roma va bene prendere giocatori di un certo livello però non spendere più del dovuto di quanto un giocatore valga la roma avrà fatto la sua offerta la ritiene quella più giusta se poi il sassuolo lo vende a cifre maggiori ad un'altra squadra pazienza non ci possiamo indebitare per prendere un giocatore io però dal paris saint germain ragazzi non prendere mai nessuno perché sono tutti ex giocatori abbiamo visto con pastore abbiamo visto cuba in aldum verratti non c'è più mercato deve andare in arabia saudita parete si ha fatto dita alla juve quest'anno io renato sanchez non lo prenderei mi orienterei magari su altri profili tipo sabitzer tipo julman e lecce che sono comunque giocatori molto più pronti e comunque in palla però ragazzi poi magari usciranno altri nomi magari un po più forti magari più concreti e per il resto ragazzi altre notizie in questo momento non ce ne sono a parte comunque christians e iorente che secondo me le prossime settimane torneranno a roma in prestito queste sono le notizie di questa domenica chiaramente la settimana entrante sarà quella decisiva del mercato in entrata della roma perché comunque si avvicina il raduno per il ritiro e sicuramente pinto vuole regalare a murigno una squadra non dico subito pronta ma con almeno tre quattro giocatori da portare in ritiro quindi vedremo quello che succederà chiaramente vi darò informati sulle novità e sugli aggiornamenti per adesso vi auguro una buona giornata e vi auguro sempre buona domenica e sempre forza roma grazie